Sono arrivate Clio Sport Tour, Gran Modus, New Twingo, New Modus, New Kangoo e New Laguna Sport Tour. Le novità sono tante, tutte da provare il 15 e il 16 marzo. E su tutta la gamma Renault puoi scegliere Finanziamento con 3 anni a tasso zero o con 3 anni di assicurazione, furto e incendio in omaggio. Grazie a tutti.